Ciao a tutti, mi sono permesso di invitare voi dell'outdoor, tu Alberto e Diego, presso questo splendido bacino della Fipsas di Terni, il lago Sergio Gatti. Visto che in questa bella sessione avete vettuto degli splendidi risultati con le waterboarders e vi faccio i miei più vivi complimenti. Grazie a tutti.